Cresce la mole di turisti che di anno in anno è attratta dal Vesuvio. Il gigante dormiente che domina fra cielo e terra su tutta la provincia di Napoli è sempre più metaturistica d'eccellenza e così per agevolare l'afflusso degli avventori è nata una nuova soluzione, il Tour Destination Vesuvio. In un'ora e mezza, partendo dal parcheggio degli scavi di Ercolano, i visitatori potranno ammirare le bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio da un bus scoperto a due piani. Ci ha parlato più nel dettaglio dell'iniziativa Emanuele Orlando Desideri, CEO della Green Line Tours. Le caratteristiche del servizio prevedono una partenza con delle soste, la sosta a quota 1000, quindi in cima al Gran Cono, una sosta di 20 minuti e uno stopover di qualche minuto a quota 400 nelle terrazze, che è un punto dove i clienti potranno fare delle foto e da dove c'è una vista molto molto suggestiva del Golfo di Napoli. Sia in andata che in ritorno i clienti potranno ascoltare in 16 lingue differenti i contenuti di tutto quello che potranno ammirare lungo tutto il percorso. Un'iniziativa che arriva in un momento di fiorente turismo nell'area, ha sottolineato il presidente dell'ente nazionale Parco del Vesuvio, Raffaele De Luca. Un turismo destinato a rimanere qui, quindi ad essere ospitato dalle nostre strutture ricettive e dai nostri ristoratori e quindi ci prepariamo all'accoglienza. A fare le veici del sindaco di Ercolano ci roba un aiuto all'inaugurazione dei nuovi tour destination Vesuvio, l'assessore al turismo del comune di Ercolano, Anna Giuliano. L'amministrazione non si vuole fermare solo a questa opportunità ma ci impegniamo a dare ulteriori offerte affinché possa il turista confrontarsi con la città, affacciarsi alla città e vedere le sue bellezze.